Salve a tutti, oggi vi volevo mostrare come le biciclette siano indistruttibili. Ora io sono con una mountain bike, la riempio di bombe. Ok, allora intendiamoci, se no spogliamo. Vado a farlo scoppiare. Qua si vede tutto nero, dell'esplosione. E però sulla bicicletta posso andare perché non è successo niente. Non si è nemmeno mostrato. Ciao a tutti.